facciamo subito subito sto video per a parte questo perché a quanto pare killer combo ha cambiato le date dunque ringrazio tantissimo rider perché a quanto pare ha deprievente il 18 vediamo un po' se è vero cioè io ci credo perché appunto lui americano crediamoci perché diciamo io ho saputo che era il 25 su tumblr ma quanto pare non hanno messo la data effettiva del suo rilascio del pre event vediamo un po' ho messo 18 giugno anche se teoricamente l'aggiornamento è domani perché settimana scorsa no due settimane fa e settimana scorsa anche è una giornata di martedì non si sa il motivo complimenti a killer combo vabbè almeno posso giocare con ad il giorno del mio compleanno anche se già la faccio ogni giorno sul coreana non ha molto senso dai insomma noi non vogliamo vedere a quanto pare si è vero però perché non ho messo il giorno 25 l'immagine completa e questo è il problema che vorrei capire poi la cosa che io non ho detto l'ultima volta è qui c'è Eve Empress qua c'è ad del tipo ma vengo lì e ti rapisco boh poi qui c'è un altro le immagini però fatela bene quindi ripeto pre event tra due giorni mercoledì intanto rimettiamo il che cacchio di giorno è oggi 16 da qui potete capire che io non guardo il falendario e il rilascio è il 25 un'altra domandina per tutti voi è se volete che io crei una specie di let's play su ad nel senso che faccio partire da zero anche dalla creazione così mi sentite tipo bestemmiare per chi mi ha rubato il rubato che parolo per chi mi ha preso l'egn o nick name tanto la stessa cosa perché la cosa è molto divertente sentirmi bestemmiare ma no io cercherò di trattenermi vabbè sono atea ma ci sono cristiani quindi evitiamo e non so ditemi voi sui commentini io vi saluto ripeto se volete video chiedete ma nessuno lo fa ecco perché non sto mettendo video in sti giorni ma anche per un'altra cosa che adesso vi faccio vedere qui possiamo vedere il nostro dino che fa le pose di jojo facebook questo è il mio profilo per capire perché mi mettono sta merda grazie ce n'era uno esemu quanti ce ne stanno comunque io sono una alfa tester di esemu questo è una specie di emulatore quindi non ha rubato niente come ha fatto il void ciao ladri ripeto il void ha rubato file da gameforge e semu no perché sta facendo tutto da solo a mano il team è composto dalla maggior parte da italiani quindi facchiei e cosa interessante ora ve lo faccio vedere c'è il nostro caro je a noi c'è oggi e si per la maggior parte siamo tutti italiani quindi ma no siamo da tutto il mondo poi ci saranno altri alfa tester per l'appunto c'è anche je ben presto vedrete alcuni video sul suo canale che appunto spero ne parli mi dubito finché noi non riceviamo lucky non possiamo fare niente aspettiamo il nostro caro devil salutiamo devil e il nostro caro andrea che sono i nostri superiori ciao tesori vi vediamo tanto bene grazie per il lavoro che state facendo e penso che il video sia durato anche abbastanza quanto siamo sei minuti non è troppo facciamo un bel salutino veloce un annuscio a tutti voi e spero di risentirci mercoledì per il video di head ad come volete chiamarlo il nostro figaccioni ciao 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 ciao